Il dirigente del settore tecnico del comune di Battipaglia, in vista dell'ultima fase dei lavori in via del centenario, ha emesso un'ordinanza per garantire la sicurezza della circolazione stradale. A partire dalle ore 7 del 1 luglio e fino al termine dei lavori, verrà ripristinata la circolazione stradale su carreggiate indipendenti e si procederà al restringimento temporaneo delle due carreggiate. Il tutto per permettere alla ditta esecutrice di concludere l'intervento di adeguamento dell'attraversamento stradale. Grazie